Da un lato l'esordio in campionato, dall'altro il mercato. Il Pescara aspetta il Napoli, ma il presidente Sebastiani e il Dieste Leone sono a caccia degli ultimi colpi per dare al tecnico Massimodo le risorse in organico per inseguire la salvezza. Il nome caldo delle ultime ore è quello del 23enne attaccante francese Jean-Christophe Baebec di proprietà del Paris Saint-Germain lo scorso anno in prestito al Saint-Étienne. C'è l'accordo tra il Delfino e il prestigioso club francese per il prestito con diritto di riscatto. Manca solo la risposta affermativa dell'esterno offensivo, nativo di Saint-Étienne, che riflette anche su un'altra proposta ricevuta dagli olandesi dell'Utrecht. Se i prossimi giorni sono decisivi per Baebec, la prossima settimana potrebbe essere quella giusta per portare in bianca-azzurro Marcello Trotta del Sassuolo. La società del patrono Squinzi spinge per il prestito oneroso che però non piace al Pescara, che d'altro canto può sfruttare la voglia di giocare dell'attaccante i cui spazi si sono oltremodo ristretti dopo l'arrivo di Matri. All'orizzonte poi c'è una suggestione, si chiama Gianluca Lapadula, il bomber dello scorso campionato, ora al Milan, sta recuperando dai problemi fisici ma potrebbe essere in fondo alle gerarchie di Montella. Sul fronte centrocampo il pezzo pregiato inseguito dal Delfino è sempre Alberto Aquilani, per cui è pronto un biennale a cifre sostenibili. Il problema resta la rescissione con la società di appartenenza, lo Sporting Lisbona, le parti trattano per la buona uscita, per cui resta in piedi la pista a Sanegno Curie, in prestito dall'Inter, magari assieme al difensore Eloge Iau. Come resta aperto il fronte Alberto Grassi, il 21enne centrocampista del Napoli, Scuola Atalanta, che il Pescara ha chiesto in prestito. In difesa l'arrivo di Gionber, probabile titolare contro il Napoli, toglie il reparto dalla situazione d'emergenza, anche perché da settembre torneranno a disposizione Campagnaro e Fornasier, ma si guarda ad un altro puntello. Oltre al predetto Iau, il nome nuovo è quello di Luca Antei, anche egli del Sassuolo. Ufficiale la gestione al Frosinone, infine, del terzino Antonio Mazzotta, in prestito con diritto di riscatto.